In quei giorni d'inverno io mi ero scornato di me, mi guardavo attraverso una lente graffiata. Quante sono le braccia che tengono in piedi uno schermo gigante su cui passano cento vite e non so, e io non so, e io non so, e io non so, se una di quelle mi appartiene a Nicolai. Ho bisogno di qualcosa di mio da scoprire ogni volta dietro finestre accese di qualcuno che mi sappia aspettare ogni giorno. Per chi soffia il vento quando cambia il senso di tutto, cosa resta degli anni che si sono fermati? Oltre il foglio c'è il corpo, oltre il corpo nulla. Ho bisogno di qualcosa di mio da scoprire ogni volta dietro finestre accese di qualcuno che mi sappia aspettare ogni giorno. Ho bisogno di qualcosa di mio da scoprire ogni volta dietro finestre accese di qualcuno che mi sappia aspettare ogni giorno. Ho bisogno di qualcosa di mio da scoprire ogni giorno. Ho bisogno di questo video. Ho bisogno di questa la tua scoprice. Grazie a tutti.